Ovviamente che puoi servire, sono un giocatore con esperienza, hanno giocato in Serie A, hanno giocato tanta partita in Serie B che tutto lo che posso dire è che sono contento con questi due giocatori che sicuramente rinforzano e migliorano la squadra e dobbiamo approfittare la sua esperienza e la sua capacità per essere migliori in un meglio partito.